E' dall'addestramento che non vedo Chief così sotto pressione. Sta bene, Fred. Non dopo così tante missioni di fida. Serra 117, la squadra 2 ha individuato Argen 1, segni di attività ostile, ma lei è ancora qui. Recebuto 117, eliminare i nemici su Argen 1. Preparatevi e schieratevi. Affermativo e giretivo. Passo e chiudo. Venga. Grazie, Fred. Tutti pronti? Affermativo. Stai bene. Squadra blu. Andiamo. Argen 1. Non esistono. Contrate fuori volto di andore. Cosa sappiamo di Argenton? Stazione Oni. È inattiva da 19 mesi. Settimana scorsa i Kikiar l'hanno trovata e rivenduta al gruppo di Julep Damar. Eliminiamo il Covenant e rendiamo la stazione Oni. La via più rapida per recuperarla è prendere il comando centrale. Eliminate i nemici fino a lì e disattivate i sistemi di gravità e di supporto vitale. Il centro dati della nave è qui avanti. Scarichiamo la pianta di Argenton. Notevole. Pare stessero progettando un nuovo venivolo di classe Sted. Hanno perso anni di ricerche con questa stazione. Al mio segnale, squadra blu. Contatto lì. Demone! Tanti soldi ci pentano! Prendete la testa! Contatto! ... E' un'altra parte. E' lì sulla rampa. E' lì sulla rampa. Il centro dati è più avanti, andiamo. Centro dati. Abbiamo un set di codici datasec per la stazione. Possiamo scaricare la pianta di Argent Moon e trovare una via per il comando centrale. Codici datasec accessato. Accesso banche dati. Scaricate dati e mappa democratica. Dal cantiere di assemblaggio il comando centrale sembra sempre dritto. Ci sono ancora dei brawler, Neyanka. Nessuno dell'Oni ne è uscito nipo, vero? No. Andiamo. Ascensore. Il comando centrale è dritto dopo Langan. Hanno fatto tutto a pezzi. Credo smantellino la roba sperimentale per i componenti. Sciacalli. Saccheggiano tutto. A quanto pare la guerra dei Covenant contro l'Arbiter non sta andando bene. Giù l'entrano è molte cose, ma non un profeta. La via diretta per il cantiere passa per quel muro. Spondiamo. Iniziali. Anche. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.